Il buon soldato Schweik alla Questura Centrale L'attentato di Sarajevo aveva riempito di numerose vittime i locali della Questura Centrale. Le conducevano una dopo l'altra. E il vecchio funzionario di servizio diceva con la sua voce benevola «Il vostro Ferdinando vi costerà caro, amici miei!» Quando Schweik fu rinchiuso in una delle numerose celle del primo piano si trovò dentro una compagnia di sei persone. Cinque di loro stavano sedute attorno a una tavola mentre in un angolo sul pancaccio c'era un uomo di mezza età che sembrava voler restare appartato. Schweik si mise subito a interrogarli tutti, uno dopo l'altro, sulla causa del loro arresto. La risposta dei cinque seduti intorno alla tavola fu perfettamente la stessa. «A causa di Sarajevo!» «A causa di Ferdinando!» «A causa dell'assassinio di sua altezza l'Arciduca!» «Per Ferdinando!» «Perché hanno spedito l'Arciduca a Sarajevo!» Il sesto, quello che stava appartato, disse di non aver nulla a che fare con i suoi compagni di cella e cercò di liberarsi da qualsiasi sospetto perché lui era dentro soltanto per il tentativo d'omicidio a scopo di furto ai danni di un contadino di Olic. Schweik si sede anche lui al tavolaccio in compagnia dei cinque cospiratori che raccontavano già per la decima volta come si erano fatti cogliere in quella faccenda. A tutti quanti, meno che a uno, la cosa era capitata in un locale o all'osteria o al caffè. L'eccezione era costituita da un signore straordinariamente grasso con le lenti e gli occhi lacrimosi che era stato arrestato a domicidio perché due giorni prima dell'attentato di Sarajevo aveva pagato all'osteria di Brejic il conto per due studenti serbi del Politecnico ed era stato veduto dal polizzotto brut completamente ubriaco in loro compagnia alla taverna Montmartre in via delle catene dove pure aveva pagato lui il conto cosa del resto che aveva confermato personalmente con la posizione della propria firma in calce al verbale di interrogatorio. A tutte le domande dell'istruttoria che aveva avuto luogo in questura non aveva fatto altro che rispondere con un urlo stereotipato Io ho un negozio di cartoleria In cambio ne ottenevo una replica altrettanto stereotipata Ciò non vi giustifica affatto Un ometto Uno di quelli a cui la cosa era capitata in osteria era un professore di storia e si era messo a raccontare all'ospite i più cerebri attentati di tutti i tempi Era stato arrestato proprio nel momento in cui chiudeva l'analisi psicologica con queste parole L'idea dell'attentato è altrettanto semplice del luogo di Colombo Come è vero che vi spetta la prigione? Fu così che il commissario di polizia concluse dopo l'interrogatorio la definizione del professore Il terzo cospiratore era presidente della società di beneficenza L'Amico del Bene con sede a Odkovićak Il giorno in cui fu eseguito l'attentato L'Amico del Bene aveva organizzato una festa all'aperto con musica inclusa Un brigadiere dei gendarmi era sopraggiunto per ordinare ai partecipanti di sciogliersi visto che l'Austria era in lutto e allora il presidente dell'Amico del Bene gli aveva detto in confidenza Un momentino di pazienza ci lasci finir di suonare Hola Slavi in non nazionale panslavo Ora stava seduto col capochino e gemeva Ad agosto avremo le nuove elezioni presidenziali e se non sarò di nuovo a casa mia per quell'epoca c'è il caso che non mi rileggono più Io sono presidente per la decima volta non sopravviverai a una tale vergogna Il defunto Ferdinando aveva fatto un brutto scherzo anche al quarto arrestato uomo d'indole leale ed immacolata condotta Per due giorni interi egli aveva evitato qualsiasi conversazione su Ferdinando e che una sera mentre giocava una partita a carte in un caffè proprio quando gli era riuscito di mangiare il re di picche con un sette di cuori non aveva potuto fare a meno esclamare Sette palle come a Sarajevo Il quinto arrestato proprio quello che aveva detto di trovarsi lì a cagione di quell'assassine a danno dell'orciduca a Sarajevo aveva ancora i capelli e la barba irsuti dalla paura così che la sua testa faceva pensare a un can barbone Costui nella trattoria dove era stato arrestato non aveva pronunziato una sola parola ed era giunto a tale eccesso di prudenza da fare a meno persino di leggere le notizie sull'uccisione di Ferdinando Se ne stava seduto solo al suo tavolino quando era giunto un signore e si era seduto di fazza e gli aveva domandato a bruciapelo Hai letto? Non l'ho letto Sa che cosa? Non lo so Ma di che si tratta? Non lo so e non me ne voglio occupare Non di meno le dovrebbe interessare Io non so che cosa mi dovrebbe interessare Io fumo il mio sigoro vivo i miei pochi bicchieri di birra vado a cena e faccio a meno di leggere i giornali I giornali non fanno che dire bugie Perché mi ci dovrai rompere il capo? Allora l'assassinio di Sarajevo non le interessa affatto A me in genere non gli interessa nessun assassino sia che venga a Praga o a Vienna a Sarajevo o a Londra Gli uffici i tribunali e la polizia ci sono apposta per questo Se uno si fa ammazzare da un altro in qualche posto gli sta bene perché è da stupidi ed è imprudenti farsi ammazzare così Queste furono le ultime parole che gli disse in conversazione Dopodiché non aveva fatto altro che ripetere a gran voce a intervalli di 5 minuti Sono innocente Sono innocente Queste parole le gridò anche contro le porte della questura centrale e doveva ancora ripeterle durante il trasferimento al tribunale di Praga ed era destinato a pronunziarle anche quando avrebbe fatto la sua entrata al cellulare Quando Schweick ebbe inteso tutte queste tremende storie di cospiratori ritenne opportuno di illuminare a tutti quanti la loro disperata situazione Questo nostro affare è molto brutto ed gli cominciò con l'intenzione di dare un po' di conforto Non è affatto vero ciò che dite e cioè che a voi ed a noi tutti non capiterà più nulla di male Perché mai esisterebbe la polizia se non per punirsi a causa delle nostre linguazze? Le tempi sono così gravi da farci assistere all'assassinio di un'arciduca non c'è da stupirsi d'essere messa in guardina Tutto si fa per dar più fastidio e perché l'arciduca possa farsi una buona pubblicità prima del suo funerale Quanti più saremo tanto meglio andrà perché staremo più allegri Quando ero soldato qualche volta mettevano dentro metà della compagnia E quanti innocenti erano puniti E non vi dico soltanto dell'esercito ma anche dei tribunali Mi ricordo che una volta una donna fu condannata per aver strangolato due giamelli appena nati Per quanto lei spergiurasse che non aveva partolito che una bambina che del resto le era riuscito di strangolare senza durare troppa fatica non di meno fu condannata per duplice infanticidio O anche quel povero zingaro di Zabelice che la notte di Natale scassinò quella bottega di pasticcere Lui giurò che era entrato per riscaldarsi ma non gli servia niente Quando un affare va a finire nelle mani dei tribunali è un disastro Non vuol mica dire che tutti siano delle canaglie come ci si può figurare ma a questi lumi di luna come fai a riconoscere un galantuomo da un farabutto specialmente in questi giorni così difficili da assassinare perfino l'arciduca Ferdinando Quando ero soldato a Budajovice un tale ammazzò nel bosco dietro la piazza d'armi il cane del capitano Quando il capitano venne a saperlo fece fare adunata ci fece mettere in fila e ordinò che uscissero fuori tutti i numeri dieci Anch'io naturalmente ero un numero dieci e così restammo tutti sugli attenti senza fiatare Il capitano ci gira intorno e ci dice Traccioni farabutti canagli assassini iene striate Per quel cane mi verrebbe voglia di mettervi ai ferri di tagliuzzarvi come spaghetti di fucilarvi e di ridurvi come pesci in salamoia Ma perché sappiate che io non ho intenzione di risparmiarvi schiafferò a tutti quanti quindici giorni di rigore Vedete allora si trattava soltanto di un cagnolino e ora invece si tratta di un'arciduca addirittura Perciò bisogna che ci sia un po' di terrore altrimenti tanto cordoglio non avrebbe punto valore Sono innocente ripeteva l'uomo ersuto Sono innocente Anche Gesù Cristo era innocente disse Schweick ma lo misero in croce lo stesso Ma in tutto il mondo se la son presa con gli uomini come quando sono innocenti «Muthalten und weiter dienen» chiudere il becco e continuare a servire come ci dicevano al reggimento «Questo resta sempre la cosa più bella e più giusta» Schweick si distegge sul pancaccio e si addormentò tranquillamente Nel frattempo furono messe dentro altre due persone una di loro era un bosniaco andava in su e in giù per la cella digrignava i denti e ad ogni due parole bestemmiava un bel gli eventi da su bestemmia serbo-croata lo tormentava e pensiero che il suo paniere di frutti vengolo si sarebbe smarrito al commissariato il secondo nuovo avvenuto era l'oste Palivec che appena riconobbe in Schweick la sua conoscenza lo svegliò e gli annunciò con voce piena di tragicità «Anch'io sono qua!» Schweick gli strinse cordialmente la mano e gli disse «La cosa mi fa proprio piacere!» Lo sapevo che il signore avrebbe mantenuto la promessa quando ha detto che sarebbe ritornato per voi la puntualità è una gran bella virtù però il signor Palicev fece osservare che una simile puntualità non valeva una merda e interrogò Schweick a bassa voce per sapere se le altre persone arrestate fossero dei ladri perché ciò avrebbe potuto arrecargli in documento nella sua qualità di bottegaio Schweick gli spiegò che tutti quanti ad eccezione di uno che si trovava lì dentro per tentato omicidio a scopo di furto ai danni di un agricoltore di Holice appartenevano alla banda degli arrestati per l'affare dell'arciduca il signor Palivec restò offeso e dichiarò di trovarsi dentro non a causa di uno stupido d'arciduca ma di sua maestà l'imperatore e poiché gli altri cominciarono a prendere interesse alla faccenda fece il racconto di come le mosche avevano contaminato sua maestà l'imperatore me l'hanno proprio sporcato come si deve quelle bestiacce così concluse la storia della propria avventura e per finire mi hanno mandato in questura non glielo perdonerò mai a quelle mosche soggiunse con voce minacciosa Schweick si rimise a dormire ma non pote fare una buona dormita perché vennero a prenderlo per condurlo all'interrogatorio e così salendo la scala che lo conduceva alla terza sezione per essere interrogato Schweick portava la sua croce verso la cima del Golgotha perfettamente inconsapevole del proprio martirio quando scorse un avviso che vietava di sputare nei corridoi chiese al guardiano il permesso di sputare in una sputacchiera e raggianti di semplicità entrò nell'ufficio pronunciando le seguenti parole signori buonasera a tutti quanti a guisa di risposta un tale gli affibbiò un bel colpo fra le costole e lo piazzò davanti a una tavola dietro alla quale sedeva un signore dalla gelida faccia di funzionario e lineamenti così pieni di bestiale brutalità che sembrava venuto fuori allora dal libro di Lombroso sulla tipologia criminale guardò Schweik con i suoi occhi iniettati di sangue e gli disse smettete di fare lo stupido io non posso farsi nulla rispose Schweik con la sua gravità da militare io sono stato riformato per idiozia e dichiarato ufficialmente idiota da una commissione straordinaria io sono un idiota in piena regola l'uomo del tipo di criminale digrignò i denti il delitto di cui siete stato accusato e di cui vi siete reso colpevole prova a sufficienza che voi siete nel piano possesso di tutte e cinque le facoltà e proseguì il suo discorso enumerando a Schweik una serie completa di sbagliati misfatti a cominciare dall'alto tradimento per finire all'oltraggio a sua maestà e ai membri della famiglia imperiale al centro della serie splendeva l'apologia dell'assassino dell'arciduca Ferdinando da cui rampollava un cespo d'altri delitti il più elegante dei quali era il reato di sobillazione in quanto che l'accaduto aveva avuto luogo in un locale pubblico e voi che ne dite? gli chiese trionfalmente l'uomo dai lineamenti bestialmente brutali che sono troppi rispose ingenuamente Schweik il troppo stroppia vedete che confessate per parte mia riconosco tutto c'è bisogno di severità altrimenti non si raggiungerebbe lo scopo io quando ero militare legatevi lo scilinguagnolo esclamò il commissario e parlate soltanto quando sarete interrogato capito? perché non dovrei aver capito disse Schweik fa umilmente osservare che io capisco e che sono in grado di orientarmi in tutto ciò che vos signoria si degnerà di domandarmi in genere chi frequentate? la mia padrona di casa signoria non avete nessuna conoscenza nei circoli politici locali? sì che ne ho signoria ogni giorno compro l'edizione serale della politica nazionale quella che chiamano la cagnolina soprannome popolaresco ad uno dei più diffusi quotidiani bohemi fuori proruppe l'uomo dall'aspetto di bestia feroce mentre lo tracinava in via dall'ufficio Schweik trovò ancora il modo di dire buonanotte signoria ritornato in cella Schweik comunicò a tutti i prigionieri che un interrogatorio come quello non era che uno scherzo vi maltrattano un poco ma alla fine vi buttano fuori prima continuò a dire Schweik era molto peggio una volta ho letto in un libro che gli accusati doveva incamminare sul ferro rovente e ingottire piombo fuso per dimostrare la loro innocenza oppure li costringevano a calzare gli stivali alla spagnola o li mettevano al supplizio della ruota quando non volevano confessare qualche volta gli bruciavano i fianchi con delle torce da pompieri come fezzero a San Giovanni in Eppomuceno ma lui urlava come se lo scorticassero e non la smise finché non lo scalaventarono giù dal ponte dell'Elisabetta dentro un sacco impermeabile di casi simili ne capitavano parecchi e come se non bastasse squartavano e impalavano la gente nelle vicinanze del museo così che quando si limitavano a buttarlo dentro la torre della fame lui si sentiva rinascere oggi giorno essere incarcerato non è che uno scherzo proseguì Schweick con foga e non sono più in uso né lo squartamento né gli stivalli alla spagnola in compenso abbiamo il pancaccio delle seggiole e un tavolino si sta abbastanza comodamente ci danno pane e minestra ci servono una brocca d'acqua e la latrina l'abbiamo proprio sotto il naso in ogni cosa si vede il progresso l'ufficio del commissario è un po' lontano questo è vero per andarsi bisogna far tre corridoie e salire un altro piano ma in compenso i corridoi sono puliti e animati qui c'è uno che viene condotto in un posto e là un secondo in un altro e si vedono uomini e donne giovani e vecchi fa piacere non sentirsi troppo isolato ognuno va tranquillamente per la sua strada senza aver paura di sentirsi dire in ufficio abbiamo deciso che domani voi siate bruciato vivo o squartato a vostra scelta certo che una scelta di questo genere sarebbe molto difficile e a me signori miei dall'idea che in un momento simile diversi di noi resterebbero istupiditi sicuro oggigiorno le misure di polizia sono grandemente migliorate a nostro vantaggio aveva appena finito di pronunziare l'elogio del sistema penitenziario vigente quando il secondino aprì la porta e chiamò Schweik vestitevi per presentarvi all'interrogatorio posso anche vestirmi rispose Schweik non ho nulla al contrario ma ho paura che vi sia uno sbaglio perché ci sono già stato una volta e mi hanno cacciato fuori e temo anche che gli altri signori che si trovano qui in mia compagnia si adireranno con me vedendomi interrogato due volte di seguito mentre loro non sono stati neanche una volta in tutta la sera non li vorrei interosire uscite fuori e smettetela di chiacchierare così fu risposto alla generosa dichiarazione di Schweik Schweik si ritrovò dinanzi al solito signore dall'aspetto di criminale che l'apostrofò senza preamboli e con durezza spietata confessate tutto quanto Schweik posò i suoi buoni occhi celesti sull'inesorabile funzionario e proferì con dolcezza se a vostra signoria fa piacere che io confessi confesserò pure tanto a me non potrà fare che bene ma se mi viene detto Schweik tu non devi confessare nulla io me la sbrigherò da me solo a costo di lasciarsi la buccia il rigidissimo uomo stese un atto e porsi a Schweik la penna ordinandogli di firmarlo e Schweik sottoscrisse il rapporto di Brett Schneider inclusovi il supplemento seguente riconosco per vere tutte le sue esposte accuse a mio carico Giuseppe Schweik quando ebbe firmato si rivolse all'uomo feroce e gli disse ho ancora da firmare qualcos'altro o devo ripassare domattina domattina sarete deferito al tribunale penale si ebbe per tutta risposta a che ora vostra signoria per Diana non vorrei mica svegliarmi troppo in ritardo fuori Schweik fuori Schweik si sentì urlare in faccia per la seconda volta nella giornata dall'uomo che stava dall'altra parte del tavolino mentre faceva ritorno al suo nuovo domicilio a inferriate Schweik disse al secondino che lo accompagnava qui va tutto liscio come sulle rotelle quando la porta si fu richiusa dietro di lui i compagni di prigione lo assalirono con un mucchio di domande alle quali Schweik rispondeva senza esitare poco fa ho confessato che l'arciduca Ferdinando quasi quasi l'ho ammazzato io i sei uomini si rannicchiarono risolutamente sotto le coperte piene di pulci soltanto il bosniaco aprì la bocca per dire Dobro dosli benvenuti il serbo croato mentre si colicava sopra il pancazzo Schweik sospirò peccato che non ci sia una sveglia quaggiù ma la mattina seguente lo svegliarono senza bisogno di sveglia e alle sette precise lo condussero col carrozzone verde al tribunale penale della città le ore della mattina hanno loro in bocca disse Schweik ai compagni di viaggio mentre il carrozzone varcava la soglia della questura grazie a tutti